Musica Quella che vedete inquadrata è l'antica cascata di Riva Trigoso dove c'è in pratica il ponte romano e siamo proprio qua, Riva Trigoso per questa nostra puntata sulle arti e i misteri di un tempo per parlare con il signor Mario Po Allora lei è un maestro d'Ascia signor Mario, ma cosa sono oggi i maestri d'Ascia? Cosa sono oggi? Sono gente che non se ne trova più adesso di quelli autorizzati veri e propri per fare i lavori in legno Lei faceva barche in legno, ma questa è una tradizione che le era stata data da suo padre, è vero? Certo, da mio padre Suo padre Ferruccio aveva iniziato nei primi... che epoca eravamo? Nel 18-20, in quel tempo in là, ha cominciato a fare le barche Lui lavorava, poi ha lavorato tanto in cantiere, no? Dopo, quando c'erano i momenti di crisi, faceva le barche Poi addirittura nel 1932 c'era la crisi che è durata quasi un anno Allora si è preso un banco, lì, di quelli da lavoro, diciamo E l'ha portato tramite la ferrovia a Monterosso, è andato a lavorare là Allora, avviciniamoci... L'ha portato insieme tre mesi lì Avviciniamoci a uno di questi banchi, perché qui lei aveva messo su una specie di laboratorio, vero? Certo Dove ha lavorato fino a quando? Come? Fino a che periodo lei ha lavorato? Ho lavorato fino all'80 Poi sono subentrate le barche in plastica Ho cominciato a 14 anni e ho finito che ne avevo quasi 60 Ecco, dicevo, allora, avviciniamoci a uno di questi tracciati, insomma E cerchiamo di capire come nasceva un gozzo in legno un tempo Dunque, prima si prendevano, facevano tutte tavole di un centimetro, diciamo, no? Sottili Allora, diciamo subito... Più o meno della barca Diciamo subito che prima si faceva un modello in legno Sì, un modello in legno Si aggiustava bene, si guardava che non ci fossero dei, diciamo, dei colpi Noi dove c'è, diciamo, deve essere tutto ben avviato Uniforme la curva, non deve essere mai dove c'è delle fosse Mi capisci? Certo, niente spigoli Ecco, no, ma deve essere tutta bella lineata, no? Poi si incominciava a tracciarci tutte le ordinate E in base a queste linee d'acqua qui, che poi diventavano linee d'acqua, tutte le tavole di un centimetro Si prendeva i punti dal centro, lasciando perdere la chiglia Si prendeva, ad esempio quella di centro, si prendeva questa misura qui E si passava nella prima linea d'acqua che si è marcata qui sul tracciato Poi si prendeva la seconda e si passava questa Poi veniva tutti dei punti che poi si univano e veniva fuori l'ordinata in quella data sessione Questi insomma erano i prototipi, questa doveva essere la barca poi come doveva essere costruita Una volta fatto il modello in legno, lo trasportavate sul tracciato? Sul tracciato al naturale Quanti anni ha questa carta che abbiamo qua? Questa qui c'è una per così, avrà... La fatta lei? 70 anni, qualche giorno l'ho fatto io, qualche giorno mio padre, questo qui deve essere di mio padre E avrà una settantina d'anni questa carta Su questo tracciato c'erano le linee in scala reale della barca? La barca, difatti se lei guarda, vede queste, qui sono tutte le ordinate La prima, la seconda, tutto via Questi anche sono molto antichi, ce ne sono alcuni che hanno proprio ancora i bui? Ce ne sono, di quelli che sono tarlati lì D'altra parte tutto non si può... Quante barche lei ha costruito? Quanti gozzi? Io ne avevo fatto fra lanci e gozzi, ne avevo fatto 7-8 In tutto, invece mio padre ci aiutava anche a lui per dire Non ho fatto per così Che legni si usavano per costruire? Per costruire dunque la chiglia generalmente Adesso la fanno da sobbier Ma prima la facevano di leccio Si metteva a bagno per un anno o due Addirittura se non serviva subito Si lasciava venire bello duro perché il leccio nell'acqua viene duro Poi si tagliava e si faceva la chiglia Poi si mettevano i dritti di poppa di prua Si prendeva del frassino, della caccia oppure anche del frassino se ce n'era Poi si metteva i pecontri E poi si andava a prendere le seste Si metteva i legni Si andavano a cercare già belli curvi Che avessero quelle curve In modo che la fila del legno fosse con la nerviatura Non ci fosse di rotture Non ci fossero dei nodi E poi si faceva le seste Partiva la prima, la seconda Facevano tutte queste osature Poi si marcava Si prendevano i madieri I madieri sono quelli che poi uniscono l'ordinata Di destra con quella di sinistra Insomma ci voleva tanto lavoro Quanti anni ci voleva per costruire una di queste barche? Quanto tempo? Ma di no ma per dire Se uno era attrezzato che aveva tutto lì pronto In 50-60 giorni, in due mesi, in tre si poteva fare Però se teniamo conto che i legni Bisognava lasciarli a bagno almeno per due Ma quello lì bisogna avere avuto delle scorte Difatti il fasciame si prendeva del pino Vedi se sono quelle piante Adesso le hanno tagliate Ma prima ce n'era un mucchio di quel pino marittimo Che era resinoso dentro Resistente Resinoso era anche dentro Quello lì non veniva mai a me Era come il pitch pine Senta un po', ma lei mi ha detto che ha iniziato a 14 anni Però questo l'è stato tramandato appunto da suo padre Suo padre anche a Voghera era andato Perché anche da bambino Quando avevo del tempo non ci andavo Ai jukebox o che Andavo giù al magazzino a aiutare mio padre Capisci? Sono sempre quei momenti di libertà che avevo Più delle volte ero lì a aiutare mio padre Ma lei mi raccontava che suo padre in bicicletta era andato fino a Voghera E' andato qui nel 1942 Non so in che anno quando c'era la guerra Non c'era di lavoro Qui era tutto chiuso L'avevano bombardato Il cantiere arriva E allora ha preso la bicicletta Si ha messo un portapacchi davanti e di dietro Si ha messo due casse di ferri Ed è andato da Voghera Dalla ditta Rona Che faceva i motori marittimi E' stato un po' anche Quello che l'ha sovvenzionato Diciamo lì E ha fatto una barca di 12 metri E una di 9 La sua Voghera Poi con le ruote l'hanno portata giù E poi comunque è tornato a lavorare qua a Rio Poi è ritornato a Rivasi Poi ha lavorato da Stagnara Abbiamo fatto dei pescherecci Quando io sono ritornato dalla Germania Che non ho fatto tre anni Io di Tre anni Ne ho fatto cinque fra i militari Perché erano la finanza di mare Io ne ho fatto tre anni E poi mi hanno preso prigionieri in Albania E sono andato a finire in Germania Quando sono ritornato nel 1945 In cantiere non c'era più lavoro Erano tutti in giro E lì invece da Stagnara facevano un po' di barche E lei allora? Allora ho preferito andare lì da lavorare Lì lì facevano un po' di ore A quei tempi basta fare delle ore Ma chi vi commissionava queste barche? Ma queste costavano? Quelle di mio padre e quelle mie Erano generalmente pescatori I più che venivano Che volevano avere una barca di 4 metri Di 5 Che la volevano un po' più larga Un po' più stretta Insomma si stava anche un po' A quello che dicevano loro Come la voleva Invece da Stagnaro Lì facevano dei pescarecci grossi Lì abbiamo fatto Perché andavano a quei tempi Tutti andavano a prendere i formaggi Commerciavano Lì con la Sardegna Era un'America Ma costavano queste barche? A quei tempi Quando le faceva mio padre Costavano 1000 lire Lei mi raccontava Che lì In quel laboratorio Adesso forse il cameraman Riesce a inquadrarlo Costruivate anche qui Alcune barche Una volta avete addirittura Ha dovuto rompere Le più le abbiamo costruite lì Una volta perché c'era un po' Perché era più piccola La porta di adesso Siccome questi qui La volevano a tutti i costi Fatta da noi Quella barca lì E ha detto Se mai si rompe Era già preventivato E abbiamo dovuto rompere Poi per vararle Le portavamo Là vede Là dove c'è quel muro Era un po' più basso Di adesso Si mettevano due legni lunghi Si mettevano tutti i parati E poi con un paracco Attaccato lì dentro La casa Li facevate scendere Nel fiume Lì facevamo Ma c'era anche la cerimonia Certo che c'era Ci mettevamo le bandiere C'era tutta la gente Là a guardare Sono bei ricordi Sono bei ricordi Sì Qui quanti tracciati ha? Ce ne sono davvero tanti Ogni barca C'ha il suo Poi è logico Che con una Se ne può fare poi diversi Più o meno Si correggono un po' Non è che tutte le volte Deve stare lì a fare Magari uno va un po' più lunga E si Capisce? Con un po' di accortè Eh appunto Uno che è del mestiere Anche se va 50 centimetri più lunga Poi una volta che ha messo I dritti E si regola con le ossature Le fa camminare Magari Un po' più a popo Un po' più a pru Insomma Dica la verità però Ora che vede queste barche Moderne Costruite in plastica In vetro Un po' di tristezza? È tristezza È la modernità Cosa vuoi che le dica? Io intanto ormai Quello che ho fatto Ho fatto E perciò gli altri Certo che le barche In legno Per conto mio Sono molto più Più marine Di quelle di plastica Hanno più galleggiabilità Insomma C'è qualche anedotto Della Della storia Del suo lavoro Che ricorda particolarmente Qualcuno che Le chiese Che sa Una barca particolare Non mi ricordo In cantiere Com'era il clima? In cantiere Si lavorava Ma in cantiere Quando ero avevo 14 anni 14 anni e mezzo Sono entrato io Sono andato Con i tracciatori navali Si faceva Due volte alla settimana Fino a mezzanotte Si lavorava Dunque guardo un po' 12 ore al giorno E in più Due volte alla settimana Fino a mezzanotte E si guadagnava 30 centesimi A Cottimo E 40 in giornata Noi eravamo sempre a Cottimo E 30 centesimi L'ora si guadagnava Ma che strumenti avevate? Lì dai tracciatori E lì erano disegni Noi eravamo garcioni Lì Si bulinava Dove ci andavamo fuori Dovevamo farci un bulino Di ferro Una martellata Si rimaneva al buio Tutto a mano? Tutto a mano Si si marcava Si scriveva Tutto a mano Paratia Stagna Numero 25 Ma oggigiorno Ce ne sono ancora Maestri d'Ascia o no? Ma io che conosco Qui qualche D'uno Ma sono tutti in pensione Ormai Di quelli giovani Mi pare che Se non abbiano Poca voglia Ormai è una tradizione Che si fa Dovrebbe anche vendere Economicamente Poi se ne potrebbe fare Anche delle nuove Per dire Non è detto Che c'è sempre Quello che è Amante del legno Ma lei è un po' Un uomo di mare Eh Un vecchio Lupo di mare Insomma Fare il bagno Si andava In barca Non tanto però Lei le costruiva Ma non andava in barca Si andava Si ma poco Era più Non mi andava tanto Sono rimasto scottato Soprattutto durante la guerra Sono in caccia Sumergibile Ho detto Se vado a terra In mare Si andavo Per dire A girare A fare una Una burdesà Ma una barca Per lei L'ha mai costruita L'avevo fatto una volta E che fine ha fatto Le ossature piegate Molto leggere No Però poi Mi comincia a dire Il mio padre Cosa ti ha portato Fata la maina Dalla spiaggia Che poi ci vanno tutti sopra E la decchia Da là Insomma Mi ha animato tanto Che l'ho venduto Avevo fatto 57 mila lire Ma era là Dopo la guerra Nel 1947 Saremmo stati Adesso insomma Rimangono soltanto I ricordi Eh sì E purtroppo Comunque Sono bei ricordi Perché Si era pieni di salute Si lavorava Non è che adesso Mi manca la salute Per il momento Però Si era anche giovani Era tutto diverso La faccenda Ci troviamo A Riva Trigoso Nel retrobottega Dove una volta Si facevano I commenti E i discorsi E non direttamente Quindi al pubblico Della rivendita Giornali Di Domenico Valentino E Domenico Valentino Classe 1923 Lo abbiamo a fianco Ma c'è tutta una storia Che sicuramente Voglio dire Interesserà I nostri telespettatori Pensate Che stiamo parlando Di una famiglia Che con Lorenzo Valentino Si è dedicata A questa attività Cioè quindi La rivendita Di giornali Dal 1915 Pensate che ci sono Ancora gli atti Ufficiali Del Corriere della Sera Che allora era Il giornale Numero 1 Come lo è Ancora oggi Anche il secolo XIX E ora entreremo Proprio nel dettaglio Il lavoro Eccetera Dicevamo La grande curiosità Quando si leggono Documenti Del tipo Corriere della Sera Alire 4 Domenica del Corriere E Corriere dei Piccoli Alire 8 E poi la lettura Romanzo mensile Beh crediamo Che siano veramente Ricordi molto belli Ora a Valentino Avremmo voglia Di fare tante domande Io direi Di cominciare Dalla più simpatica Prima di arrivare A parlare Naturalmente Di suo padre Ma lei Valentino A che ora si alza Al mattino Per essere chiaro Negli ultimi 50 anni A che ora si è alzato Alle 4 e mezza Tutte le mattine Sono piedi Prima andavo Alla stazione A prenderli Con la bicicletta Poi con la vespa Il treno che arrivava Alle 5 e 10 Arriva a Trigosa Per essere in tempo Alle 5 e 40 E 5 e 30 Anche Per servire Per aiuto del cantiere Che facevano i turni Dalle 6 alle 2 Ecco quindi Pensate voi Una vita Sempre alle 4 e mezza Tutte le mattine Quindi vendere i giornali È un po' come fare il pane Sì Ma forse anche peggio Fino al 1960 Tutte le mattine Senza nessun giornato Di festa Sia questa A Capodanno A Natale A Santo Stefano Sempre Io nel Capodanno Ricordo che a me Stassi A prendere i giornali E vedevo I giovanotti Che venivano Dai veglioni Di Capodanno Al mattino Del primo dell'anno E io ero lì A dare una mano A mio padre Perché allora Era già anziano Poi dopo il 60 Con l'ottuno caldo È cominciato a avere 5 giorni A festa All'anno E quindi A Natale Santo Stefano Si dorme Il primo maggio A Pasqua Diciamo che è stata Allora una conquista Dei giornalisti E dei tipografi E poi di conseguenza Siete giunti Anche voi Che siete un pochino Il contatto diretto Tra il giornale Diciamo E il pubblico Una domanda Domenico Ma ci può dire un pochino Suo padre Che era conosciuto In tutto Levante Ligore come Cinin È stato il primo Ma non solo Di Riva Trigoso Qui parliamo anche Di Sesti Levante Di Fatti è stato il primo Che ha venduto I giornali A Sesti Levante Aveva un gabbiotto Una specie Con quei tempi Chiosco Un piccolo chiosco Sulla piatta Del municipio Dove ci sono gli atti Anche lì Venduto Un certo pacchiani Io non so Poi però Siccome era solo Si sono divisi Il lavoro Lui E il gottardo Quello di Sesti Milano Milano Bravo Milano Mio babbo Ha preso la zona Da Dal passaggio Della Ferrovia Lì da Via Nazionale Fino a Riva Fino in Sara Moneglia compresa Moneglia si vendevano Pochi giorni Pochi giorni E il Milano Aveva fatto Sesti Prendeva Sesti Dunque Ma quante edicola Ha arrivato a avere Suo padre? Ebbene Come edicola Ha arrivato Questa qua Poi c'era Quella di Pila Che l'ha preso dopo Poi Se non era proprio edicola A Trigoso E a San Bartolomeo Che venivano servite Da mio padre Quattro cinque edicole Sì ma non era Non era edico Punti vendita Punti vendita Che ci si era Allora a quei tempi Serviva Di chi aveva Un negozio Come a Trigoso Per esempio Chi aveva il punto 20 Era gestito Dalla mamma del Bo Edoardo Bo Edoardo Bo No Quindi a San Bartolomeo Dalla mamma di Giusecchini E quindi i figli Ora hanno A ripresa Appunto a San Bartolomeo Volevo chiedere Ma la gente Leggeva il giornale Nel 1915 Cioè se ne vendevano Ora naturalmente Lei non c'era Però voglio dire Avrà visto Perché so che voi tenete Custodite gelosamente Tutta una serie di atti Cioè il giornale Si vendeva Di più di adesso O meno Ovviamente in proporzione Alla cittadinanza In proporzione si potrebbe dire Di più Cioè di più Anche perché Mio babbo Ce li portava a capo Per esempio Pila Finansara Fino lì Da Upiccioia Chiamato Upiccioia Che sarebbe stato Il confine Tra Casarsa E Sesti No? All'inizio da salita Ci portava con la bicicletta L'abbiamo con la bicicletta A scatto fisso All'uomo Tanti se lo ricordano E poi c'era Ma allora c'era questo Che leggevamo molto Noi prai del cantiere Più che altri giornali sportivi Quando c'era Tutto sport? La cantetta Lo sport C'era la cantetta Lo sport La più che andava Poi il tutto sport È venuto dopo Poi c'erano anche I giornali politici C'era allora L'Unità L'Avanti No L'Unità L'Avanti Sono venuti dopo Dopo la guerra Prima della guerra C'era dunque A lunedì Usciva il piccolo solo Poi c'era Caffaro prima del secolo C'era il Caffaro Ancora veniva Poi il secolo Il lavoro Poi il giornale Il giornale di Genova C'era Poi dopo la guerra Ne sono diventati diversi Il Corriere del Pomeriggio Ecco ma non è un po' troppo Onflazionato Prima c'erano due Tre giornali E quindi si vendeva Oggi avete Le edicole piene di giornali C'è questo Che prima Erano solamente i giornali Quelli che si chiamano Gli illustrati Ora c'era solamente L'amore illustrato Il Corriere dei piccoli Pieni ragazzi Che Topolino Non c'era ancora La lettura Che era per quelli Che diciamo così Si interessavano Un po' di Insomma Di cultura Proprio vera Brava ecco Entra dal Corriere Della sera La domenica del Corriere Quindi era sempre Il Corriere della Sera Via Venivano tutti da Via Solferina Milano La tribuna illustrata Di Satisci Il Travaso Allora ricordi Il Marco Oreglio E quindi Diciamo che Certamente che dopo la guerra Hanno preso campo I giornali Tipo Grand Hotel Oggi Gente I rotocalchi Poi sono andati Con i rotocalchi Voi ora avete Centinaia C'è stata un'inflazione In quel campo Ecco Ecco Una sensazione sua Era più bello Vendere il giornale Prima E più bello Oggi Cioè Lei resiste sempre Voglio dire Quali sono le differenze Principali Anche dal punto di vista Del cliente Che si avvicina Al negozio Diciamo Ebbene Prima Vi conoscevate di più Forse Si conosceva di più Prima cosa Poi anche Di altri tipi Io ricordo Per esempio Alla sera Io ero ancora ragazzo Ebbene Lì in bottega Era un po' Un Come potrei dire Una riunione Insomma Che veniva lì A parlare Insomma Di una cosa Dell'altro In certo qual modo Si chiacchierava E quindi Era anche un ritrovo Ecco C'era anche magari Chi approfittava Di leggere il giornale A scrocco Come si suona Si Anche quello Magari Si fermava la gente Ogni tanto Fuori A leggere un po' Qualche titolo E magari Non c'erano allora I soldi Oppure il giornale Costava poco Ed è da allora Che non c'era Le locandine Come c'è ora Fuori Chi sapeva Chi voleva il giornale Sapeva dove Non c'era la televisione Diciamo che quindi Era Erano più tentati A prendere il giornale C'è poco da fare Oggi invece Spesso succede Che Proprio con la televisione Lì in domani Se non si fanno Proprio dei commenti E le notizie Li hanno subito Qualcosa di Qualcosa Di particolare O di clamoroso Soprattutto sulla località Magari Dove non viene trattato Sulle televisioni nazionali Il coso politico Ormai Il fatto politico Non interessa più Alla gente Almeno Perché c'è la televisione Ecco Suo padre Lei ricorda Qualc'aneddoto Di suo padre Perché dico Magari Immagino io Una data strana Nel settembre Del 1937 È crollato Il ponte di Riva Trigoso A seguito Di un'alluvione Io immagino Che anche quella mattina Lì avrà dovuto Fare un giro diverso Ma i giornali Sono arrivati Anche col ponte di Riva Trigoso Crollato Quello senso Io ricordo questa data Sì Do 1937 Settembre Che occupa Se occorre La stazione Gagnata È che È stata costruita Certamente Abbiamo le fotografie Ti ricordi Le fotografie E certo E quindi Valentino Bisogna dire la verità Qui siamo di fronte A una storia intera E c'era persino Una battuta Che era quella Che una volta Non dicevano Giornalaio Che poteva essere In senso dispregiativo Ma dicevano giornalista Quindi qualcuno Aveva concepito Voglio dire Che la categoria Dei giornalisti Forse Erano dei lungi miranti Farebbe meglio A vendere giornali E chi vende giornali Invece magari A scrivere Perché forse Ne leggete Più vuoi di giornali Anche per calore Vendere giornali Era considerato Un mestiere Più o meno Basso Capisci Non voglio dire Come lo spartino Ma perlomeno Perché la cosa Che andava in giro A vendere giornali Praticamente Oggi gli operatori ecologici Così si chiamano Sono quelli che guadagnano Di più Perché le categorie È sempre stato così Ma voglio dire Appunto Quindi voi Avete È una scelta di vita Quella di Vendere giornali Però io vedo Che lei C'è molto attaccato Perché oggi Con i tempi Che sono Però lei continua A tenere aperto Proprio anche per servire Gli operai Del cantiere Che fanno Il turno delle sei Sempre Quello è sensato Sempre Ma è andato Che cosa devo fare Fin che ci riesco Tira avanti Perché anche Non ne potrei fare a meno Per me Ormai è diventato Come giù 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 Avete avuto anche Chi ha scritto Voglio dire Libri Chi ha scritto Chi ha fatto Il corrispondente Di giornali Vogliamo ricordare Il mio cugnato Il frattello Il marito Di mia sorella Ha scritto Il famoso Via quel libro Di Riva Cento barche Cento padroni Ha fatto per tanti Quindi bregante Bregante Antonio Antonio Stato corrispondente Anche voglio dire Dei giornali Ha fatto tanti Per il corrispondente Del lavoro Ha fatto quindi Quindi ecco No Questo lo ricordiamo Non solo ai nostri Telespondatori Soprattutto ai giovani Anche perché Effettivamente Questo è un mestiere Particolare Oggi a Sesti Levante Ci sono 14 edicole Poi qualche punto estivo Ecco Si parla di una nuova legge Si parla di vendere I giornali Nei bar ovunque Però io credo che Fondamentalmente Siete voi Che conoscete il cliente Voi il giornale Lo sapete già Il cliente E poi non solo Poi Chi cura il giornale Come uno con un edicolo Non ci può essere Perché se lo dasse Nei giornali Hai i bar I tabacchi Possono durare Ma non tirare avanti tanto Certo e questo è quello Che dicono anche i distributtori Mi dica una cosa Ancora Domenico Una volta i distributtori C'erano L'amico Rovido O Barolo Di prima Oppure non c'era Una volta Era un passaggio diretto Una volta il passaggio diretto Una volta il giornale Arrivava alla stazione Si pagava Veniva l'ispettore Del giornale Del Corriere Del secolo A fine mese A ritirare i soldi Si pagava direttamente Lui Si era stabilito Un rapporto Con mio babbo Ci volevano bene Tutti gli ispettori Che venivano Infatti quando venivano qua Si fermavano a mangiare Stabilito Un rapporto Di umano Vorrei dire Poi dopo I distributori I giornali Sono ampliati Quindi c'è anche un servizio Di distribuzione Mi faccio una battuta Conclusiva Voglio dire Secondo lei Questi giornali Ne venderemo ancora Mi ci metto dentro Anch'io nella categoria Tendenzialmente Si vendono ancora Oppure c'è veramente Crisi Come dicono gli editori Ma io non credo Io direi che gli giornali Si continuano sempre a vendere Perché la qualità Da parte del lettore Di Sentire Perché se la televisione Ha tolto qualcosa Al giornale Però non ha tolto Tutto prima cosa E poi Il giornale Sempre potrei dire C'è gente Per esempio Che non potrebbe fare a me Di dover leggere Quindi anche un'abitudine Il giornale Di un'abitudine Capisci E questo Penso che Che l'edicola Sia sempre Il migliore Canale Di diffusione Dei giornali E quindi Un augurio Da Domenico Valentino Ricordando Il papà Lorenzo E Gli ultimi Figli Che stanno Anche la mamma Naturalmente Che stava nel negozio E i figli Che continuano L'attività All'interno Del negozio Che naturalmente Dico Domenico Rimane sempre Un punto di forza Con questo Dico Noi concludiamo Sulla vendita Dei giornali Torneremo Naturalmente Con tante altre Arti e mestieri Buona serata Da Riva Trigoso Per meglio dire Da Riva Ponente Siamo nel magazzino Dei Zolezzi Ecco Gli Zolezzi A Riva Trigoso È un cognome Che è abbastanza Noto E in questo magazzino Ci sono state Veramente Migliaia Per non dire Miglioni Di forme Di formaggio Sardo Che veniva Portato dalla Sardegna Con i leudi E quindi Sbarcato A Riva Trigoso Eccetera Ma su questo Ci arriveremo A parlare Insieme a noi Abbiamo un gruppo Di persone Che Non possiamo Definire Lupi di mare Perché ognuno Di loro Nella loro vita Ha amato E ama il mare Però hanno svolto Anche attività Naturalmente Legate al cantiere Per esempio Al cantiere navale Di Riva Trigoso Abbiamo Augusto Ghio Che tra l'altro È anche il vice Vicepresidente Del Bagnum È il cassiere Di questa manifestazione Gianremo Moisello Che è super amante Del mare E ha lavorato A tirare Gli ultimi leudi Quindi Ci spiegherà Alcune cose Paolino Zolezzi Che lo dicevamo Il magazzino è suo Quindi la sua origine Suo papà Faceva le barche In bottiglia I suoi zii Avevano i leudi Abbiamo Giovanni Olivieri Che è uno Degli ultimi Pescatori Dei polpi Con lo specchio E spiegheremo Un attimino Cosa facevano Con lo specchio Con la Cettilene E poi Nello Trinca L'ospite Che abbiamo Preso Perché fa parte Diciamo Un po' Il cuoco Della loro compagnia Bene Dicevamo È un gruppo Molto forte Affiattato Qui potevamo Essere anche 15 20 25 persone Perché Ponente Perché ponente Ha una grande realtà Di amicizia Ghio Una battuta Su questa compagnia Come siete nati Rispetto Voli del vostro Non è proprio Arte mestiere Nel senso Che è un po' misto Però Vi trovate bene Quando siete attorno A un tavolo Siamo sempre 7-8 Proprio base E poi E qualche invitato Però facciamo sempre Tutta roba Insomma cambiata Non ho i soliti menù Quindi E sono piatti Rivani Proprio rivani Classici Rivani classici Bene Gianremo Moisello Dicevamo prima Lei è uno di quelli Che ha lavorato Per tirare i leudi Ecco Vi pagavano bene Oppure Era una paga Eh sì Davano una tamigiana Di 12 litri di vino E 5 lire Quando ci andavo io Logico Ecco Quindi praticamente Questi leudi arrivavano Ecco Le botti come venivano scaricate Venivano buttate in mare Tirate a riva E poi con una corda Tirate lungo la spiaggia E poi Rotolate fino al magazzino E quindi Una parte venivano portate Nella Casa Vinacera Nella cantina di Picin Altre invece Andavano Dall'altra parte Di Castagnola Ecco Voglio dire C'era poi il rapporto Con i formaggi Diceva Paolino probabilmente Li ha mangiati I formaggi che sono stati In questo magazzino Più che trasportati Però Avevate delle barche I vostri familiari Avevano delle barche Le auto Leva le auto Uno solo Le auto E commercio Portavano qui nel magazzino Con le aschette Delle attrezze Per portare Ecco Avevano quindi Queste aschette Si chiamano così Perché è difficile Oggi non è un attrezzo Che si possa tradurre In italiano Erano Chiamiamole piccole Lettighe di legno Che servivano Per portare Che venivano riposte Quanto ci stavano qua Queste forme di formaggio Ah ci stavano degli anni anche Anche degli anni Si E quindi Rimanevano qui a stagionare E poi venivano Immesse sul mercato Invece da Giovanni Vogliamo una battuta Di questo tipo Dalle immagini Di Alberto Carretto Si vedono per esempio Delle splendide creazioni Di conchiglie Che sono veramente Piacevoli e belle Ecco Ma com'è nata Questa passione E' nata così E' stato un hobby L'ho preso per un hobby E ho tirato avanti Ecco Però lei mi diceva Che va ancora Adesso a pescare Con lo specchio 76 anni Vado ancora a pescare Ecco Come pesco Pesco col cristallo Con le polpaie E con le fiocine Se necessario Per seppi E compagnia Bella Pesce Ecco Ma una volta Come facevate Mi diceva che Da Riva Trigosa A Riva Trigosa Andavamo A Zoagli Poi Pietro per Pietra Ritornavamo qua Oppure A Framura Da Levante A Rivi Sempre E al mattino A giorno Ci trovavamo qua Ecco Quando si Con le citilene A carburo Con le citilene A carburo Quindi che erano Questi che facevano La luce In questa lampara Ecco Diceva Quando Giovanni Parla di Pietra Pietra Significa che Proprio lentamente Con questa manovra Dei Rivi Per poter appunto Uno ai remi E l'altro Allo cristallo Allo specchio Per poter Esatto Con la fiocina Pescare Ghio Si andava a pescare I palamiti A remi Allora Qui nel dopoguerra Mentre di là Oltre a Renà Andavano Andavano Insomma Si sono andati a remi Poi i primi motori Là erano Lami Qui erano Maglie Quindi praticamente Arriva a Ponente Si pescava con le reti Mentre a Renà Si lavorava con gli ami Ma rendevano queste pesche Oppure si facevano così Si viveva Sti racchiato Però si viveva Più felici di adesso Perché Io mi ricordo I particolari Un po' Lontani C'era un po' Della Strighi Strighi Però tutta la gente Cantavano Cioè erano contenti Erano felici Ora sono tutti contenti Hanno tutti I plasmoniani Hanno tutto E non senti uno che canta Cioè praticamente Che io Questo è un metamorfosi Quindi lei dice Una volta si viveva Di sacrifici Si andava a remi Magari a pescare Nella fossa 4-5 miglia A largo di Moneglia Andare Però vuol dire Si viveva con poco E si viveva Come si poteva C'era quelli che Però so che lei Oggi per esempio Ha un videoregistratore Se lo sapessero I suoi avi Che aveva un videoregistratore Se c'era mia madre Mi traeva Allora quindi Voglio dire Anche Ghi È cambiato Rispetto Lo sai che io sono Il contrabbasso Di tutto Io tiro sempre Sui plasmoniani Non mi posso andare Non mi va giù Questo affare qui Ecco invece Moisello È un po' Deluso Di questa pesca Una volta Si poteva andare A pescare liberamente Oggi invece Sembra quasi Che uno sia un delinquente Com'è questa storia La storia è così fatta Che chi fa le leggi Non sono quelli Che vanno a pescare Le leggi di pesca Dovrebbero fare I pescatori E basta Quindi gente come voi Che ha passato Una vita in mare Oggi Se va a pescare Se va a pescare Voglio dire Si trova magari A dover portare Salva gente Alla cima Oppure a non poter Addirittura pescare Con le reti Che so Dico che lei Andava a salpare Anche le reti Da acciughe Eh sì Andava a pescare Prima perché si poteva Adesso non si può più Dobbiamo fare I dilettanti Che poi Tra parentesi Si misca Al professionismo Anche a dilettante Mentre i professionisti Certi professionisti Non possono andare A pescare Perché devono andare Da soli Non riescono Da soli A varare le barche A tirare sulle reti In conseguenza Ci vuole sempre Una spalla Che la legge Non gliela permette Ecco Paolo Una cosa Qui abbiamo Le barche in bottiglia Sono forse Fra le ultime Barche in bottiglia Che sono state costruite Arriva a Trigoso Qualche d'uno C'è ancora E Giovanni So che è uno di quelli Ma Paolo Suo papà Stefano Se non vado errato Stefano Zolezzi Ecco Cioè Dedicava molto tempo A questo Quando le faceva Queste barche Le faceva Quando Alla sera Quando usciva Da lavorare La cantiere Poi mangiavano E poi alla sera Due o tre ore Dopo mangiato Fino alle dieci Dieci e mezza E facevano queste barche qua Quindi praticamente Se ci fosse stata La televisione Come ai giorni oggi Forse c'erano meno barche Sono convinto Anch'io Ecco Quindi Mi dica una cosa Però Lei Barche in bottiglia Non ne fa Lei va solo a vedere La Sampdoria Sì Quello lì certo Quello lì Dopo la famiglia La passione La Sampdoria E barca in bottiglia Barca in bottiglia Mia Contento di guardarle Ecco Quindi questo È la passione Paolo Zolezzi Giovanni I polpi Però prima ritorno A Moisello Perché lei li pesca Ancora adesso Oggi il polpo Vale dei soldi E lo sanno le nostre Massai I nostri telespettatori Sanno che i polpi Variano dalle 8 All'ingrosso Fino alle 15 16 mila lire Al chilogrammo Moisello Io so che c'è un episodio Quando i polpi Non li voleva nessuno Cosa ne facevate? Beh Io andavo a pescare Con Un certo massa Che era di Porto Venere Aveva delle nasse Noi andavamo a pescare i polpi Per affumicarli Con le cani Che portava al mare E infilarli nelle nasse Per prendere gronghi E murene Quindi addirittura Proprio li gettavate via Praticamente Erano gettati via Cioè i polpi Li mangiavano solo Le famiglie Meno ambienti Perché non c'era altro Qui abbiamo Ghio che non si ferma E lei quindi Ma questi Quando lei è svolato A Santa Vittoria Mi pare Ecco Ha portato qualche polpo Nell'entro Ah no eh Meglio prendere un po' di basilico Ma i polpi NN Quindi per qua Qui a polpi Non ce n'è mai Non ce n'è mai stato Ecco voi pensate Oggi si vanno a ricercare Queste ricette particolari Sui polpi Mentre Ghio sostiene Che i polpi Sono pesci Non Polpi La seppia Il totaro Calamari Non sono polpi Non sono pesci Non è Non sono pesci Perché non hanno Le scaglie E non hanno sangue E noi diciamo Che spesso invece La gente Non vuole i pesci Perché hanno le lische Preferiscono i calamari Che sono buoni E qui me la contestarono Un po' Ghio Perché lui è un contestatore nato Ma Giovanni Com'è sta storia Dei pesci e dei polpi I polpi sono buoni I polpi sono buoni Prima Quando c'era la guastanza Stala col carreto Mi comandava Prima quanto ce ne devo portare 30-40 chili Poi Cosa faceva Spediva le cassette a Genova Mi diceva Le ho perse Se faccio qualcosa Qualcosa ti darò Voi pensate Quindi voi pensate Un attimino Cosa significa Andare a pescare Su commissione Poi questi pesci Veniva addirittura Si diceva L'abbiamo buttati via L'abbiamo persi Ma poi magari Li vendevano Giovanni a Genova Vendevano magari a Genova Ma lei ti diceva così Voglio dire Cosa si vede In mare Oggi stando allo specchio Cioè ci sono Più pesci di prima Meno pesci Il fondo del mare È successo così Dopo che sono venuti I subacqui Il pesce Lei andava dietro Con la fiocina Andava sotto lo scoglio Faceva il nido Prolificava Adesso il subacco Ci va sotto E il pesce È obbligato A prendere altre rotte Quindi ne vedete Meno Meno Assolutamente Meno Poi anche Il fondo marino Non c'è più Quella bitacche Quelle alghe Quelle cose Che c'erano una volta Quindi qualche cosa Si è perso Però voi potete sentire Da queste persone Che indubbiamente Voglio dire I ricordi sono forti Ma soprattutto È forte la passione Perché se Si fa un riferimento Voglio dire Al sub Che potrebbe danneggiare O comunque che danneggia Perché con le bombole Si riesce a camminare Sul fondale Quindi Tra Giovanni Che deve guardare Nello specchio E tentare di prendere il polpo E uno che cammina Con le bombole sul fondale Che dovrebbero fare Però solo fotografie Giovanni Lei ritiene che facciano Anche altro Oltre che le fotografie Fanno anche altro Fanno tutto Cioè ci sono ricci Ci prendono ricci Ci prendono tutti E sulla punta Al scoglio della Tannula Ci sono 53 metri Sulla punta Vengono Vanno giù E prendono le ragoste Con le mani E brontolano Perché sono piccole E qui la diritto Pensate voi Pensate voi A questi raccogli E allora Noi diciamo questo È stato il primo A venire A prendere sullo scoglio Ecco qui addirittura Ghio fa un'accusa precisa Ma il buongiorno È venuto sulla punta Lui no Ma i campionati italiani Che già aveva Sono andati giù Ma c'era C'è come Dicono che ci sia Come una stanza E sono tutti appesi Però voglio dire una cosa Ghio Una barca in bottiglia Una volta si faceva Si regalava agli amici Oggi ci vuole Due o trecentomila lire Ma allora vuol dire Che questa vostra tradizione Ve la volete far pagare Ma adesso non le fa Lui più i plasmoniani Chi è che è il plasmoniano Che fa le barca Un momento Scusi Ghio Della giornata Mettere una barca in bottiglia Ecco Ghio Possiamo precisare Che per lei I plasmoniani Sono l'ultima generazione L'ultima generazione Perché se non c'era la Gaslini Non c'era più nessuno Cioè secondo lei Quindi I plasmoniani Sono coloro Che vanno a fare i cubisti Sui cubi In discoteca Esatto Chi va in discoteca A fare i cubisti Non costruisce le barca in bottiglia Ma che fa delle barca Perché Quando Quanti anni Che la Gaslini è nata Quindi praticamente Gaslini E' un'ultima generazione E' un'ultima generazione E' un'ultima generazione Ed ecco Quindi voi vedete La storia Che è ripercorsa Così con le nostre battute Naturalmente anche Molto simpatiche Però siamo arrivati Ai punti di dire Questo paese Qual è una battuta vostra Veloce Cosa pensate che sarà La Riva Trigoso Degli anni 2000 Sarà la terra di nessuno La terra di nessuno Vediamo Moisella Beh io sono un po' meno drastico Penso che sia Che diventi Un bel paese E lo è già Penso che diventi ancora meglio Andiamo già migliorando Paolino Cosa si aspetta Da Riva Trigoso Degli anni 2000 Dai suoi figli Voglio dire Sono convinto Che verrà sempre più bello Speriamo Che la Sampdoria Vinca qualche campione No Quello lì no Speriamo di sì Speriamo Però speriamo Che il paese Ritorno sempre più bello Come adesso Quindi allora Ghio pessimista Moisello Leggermente ottimista Abbiamo Paolino Che spera E creda ancora Nei giovani Giovanni Come sarà questo Lei sul fondale del mare Non mi ha dato molte speranze Molte speranze Per l'inquinamento Una cosa e l'altra Mi sembra che sparisce tutto Però mi hanno detto Che lei Vanti Ieri aveva un mucchio di polpi Si fa quel che si può Quindi che subito Non interviene Nello Lei è stato nostro ospite Silenzioso Ha sentito parlare I pescatori I costruttori di barche I contestatori Ma mi dica una cosa Cosa sarà Riva Trigoso Negli anni 2000 Io penso che Riva Trigoso Negli anni 2000 Sarà migliore di adesso Perché vedo che i giovani Si danno da fare E cercano di portare il paese Più bene che si può E quindi Su questo Io penso che sia un augurio Vedremo Vedremo Dico naturalmente Ci auguriamo Che le ragioni Siano un po' di tutti E lasciamo Il borgo marinaro Di Riva Trigoso La sua storia Dei leudi Leudi che portavano Il vino Leudi che portavano Il formaggio I palamiti Le fiocci Nella citilene Abbiamo parlato Di tanti tipi Di attività E di pesca Naturalmente Ritorneremo Con altri momenti Ma questo Credo che sia significativo Perché è girato Questo filmato All'interno di un magazzino Un magazzino Che sa ancora adesso Sia di salsedine Perché è vicino al mare Ma soprattutto Di formaggio sardo Trasportato Nelle rotte Che una volta Erano lunghe Oggi naturalmente Verso la Sardegna Si arriva con più facilità Buona serata Grazie a tutti